L'altra settimana avevo detto che speravo che ne saremmo usciti con la neutralità tipo la Svizzera e qualcuno si è indignato. Ma infatti chiedo scusa, minchione io che ho sbagliato paese. Quale Svizzera? Neutralità austriaca o svedese ai negoziati ucraina russa. Ma allora vedi che ne parlano anche loro. Comunque neutralità austriaca o svedese, che sia ista al Wüster o al Salmone, sempre di neutralità si tratta. Per me i veri neneisti sono quelli che vogliono mandare le armi però restando sul divano. Né con la pace perché mandano le armi, né con la guerra perché in trincea non c'è la sauna. Diciamo che fanno i partigiani col culo degli altri. Ma scusate. Ma non è neneismo dadaista un titolo così? Me lo fai vedere. Caino al Parlamento dice sì all'invio di armi, agli aiuti e alla mediazione del Papa. O gli mandi le armi o gli mandi il Papa. Cioè, non è che glieli scarichi tutti e due e poi scelgono loro. Tu mi dirai, la via di mezzo sarebbe mandargli il Papa armato. Ma non so se accetta lui, ecco, cioè. E comunque, è bellissimo perché mentre l'Occidente e la Russia si scannano per la conquista del mondo, c'è anche chi sorgnone il mondo se lo sta comprando. Ecco come la Cina sta conquistando il mondo senza sparare un colpo di fucile. È bellissimo, no? C'è chi conquista e chi acquista. Immaginatevi un saloon del Far West, scopre una rissa, sai nei saloon, e mentre tutti si menano e si sparano, c'è un cinese sotto il bancone col notaio che si sta comprando il saloon. L'altra sera guardavo presa diretta al programma di Iacona, bellissimo, parlava degli interessi della Cina nel mondo. Alla Cina servono materie prime dal Sud America. È facile, vanno in Peru, si comprano una miniera e poi ci costruiscono accanto un porto, ci mandano le loro navi e si portano via tutto. Alla Cina serve il petrolio in Kenya? Facile! Vanno in Kenya, montano un impianto petrolifero, poi ci costruiscono un porto accanto, ci mandano le loro navi e si portano via tutto senza sparare un colpo. La Cina non va lì offrendo aiuti in cambio di riforme politiche come fa l'Occidente, la Cina va lì solo per fare affari, fa contenti tutti. Non a caso oggi Biden e Xi Jinping si sono telefonati e il commento è stato questo, fammelo vedere. Xi Jinping e Biden il conflitto non è nell'interesse di nessuno, poi probabilmente gli ha anche fatto un'offerta per l'Illinois, in nuda proprietà. Ora io vi farò vedere qualche bellissimo passaggio di presa diretta che spiega molte cose, grandissimo Iacona, e poi lascio la parola a uno che, spiaggiato su un divano, sulla Cina, ci ha costruito una carriera. No, no, guardatevi questo, questa cosa.